200 metri circa allo stacco macchina che lancia i concorrenti veloce dall'esterno Rosy Srobb che cerca di conquistare la testa lo fa in poche battute va in vantaggio nei confronti di Riviera AS che ha a largo l'errore però di Rosy Srobb imboccando la prima curva a 1000 bot di galoppo e così riesce a sfilare Rubra B su Riviera AS 200 iniziali 15 e 1 con Rubra B che guida Riviera in seconda posizione poi dovrebbe essere Remo Ragget rimasto all'esterno infatti avanza Remo Ragget terza posizione in corda per Rimica di Azzurra intanto il quarto se ne va in 39 con Rubra B leader nei confronti di Riviera AS Remo Ragget percorsi esterno e ancora retta di Azzurra scusate Rimica di Azzurra via via le altre con all'esterno proprio retta di Azzurra 600 in 47 e 2 Cavalli che affrontano il passaggio davanti alle tribune ha sensibilmente rallentato l'ondatura Antonio Greppi con Rubra B all'esterno si è adeguata Remo Ragget e così gli 800 se ne vanno in un tranquillo 1, 2 e 3 con secondo quarto in 31 e 4 si affronta la penultima curva con posizioni tattiche invariate in coda c'è Ariel Mede SM preceduta anche da Ribelle OP intanto il chilometro in 1, 17 e mezzo 15 e 2 il parziale con Rubra in vantaggio su Riviera AS all'esterno è ancora Remo Ragget fin dalle prime battute terza posizione per Rimica di Azzurra tenta la sortita in terza corsia intanto Ribelle OP lo scatto di Ribelle OP l'anticipo di Real Mede SM i due vanno con Real Mede che è ora ridosso di Ribelle OP che è passato in vantaggio mentre qualche problema per Riviera AS nel superare Rubra B che era ferma prende intanto una lunghezza di margine Ribelle OP a Real Mede SM che ci prova a centropista Ribelle in vantaggio a 50 dalla conclusione ancora Real Mede che nel finale guadagna terreno ultime battute soffre ma vince Ribelle OP contro Real Mede SM terzo posto per Riviera AS 1, 16 e 4 30 secco a chiudere una gran faticaccia per Ribelle OP che nelle battute conclusive deve difendersi strenuamente da Real Mede SM che guadagna visibilmente terreno andiamo a rivedere le fasi finali Andrea Buzita sostiene a dovere il suo allievo sul palo è ancora una testa scarsa avanti all'avversario 13 e 72 la quota per Ribelle OP Andrea Buzita in sediolo in a Grazie.